Allora, innanzitutto volevo confermare quello che qualche giorno fa ho dichiarato in qualità di segretario del Partito Democratico di Priolo sui giornali, un pezzo che è uscito qualche giorno fa, cioè che questa amministrazione continua in una linea che ha intrapreso già anni addietro, cioè quella linea di non assumersi nessuna responsabilità davanti ai cittadini, di non avere mai una linea chiara e dire delle parole certe su questa questione, ma di cercare sempre di sfuggire alla realtà. E questo lo vediamo tutte le volte in cui c'è un consiglio comunale in cui per la rilevanza degli argomenti trattati la cittadinanza è presente, l'amministrazione come per miracolo è assente. Oggi, devo dire, hanno stabilito un nuovo record perché dopo l'assenteismo del sindaco, il mutismo che è stato il suo cavallo di battaglia sia nelle conferenze dei servizi ma anche qui in aula consigliare, certo non ci aspettavamo che mancassero anche i suoi portavoce ufficiali, quali l'assessore Scaringi che disse tempo addietro nell'ultimo consiglio informale, che avrebbero fatto di tutto per fare rispettare quella che era la volontà dei cittadini. A meno che questo avvenga al nostro insaputa e in luoghi separati che non vediamo, quando ci sono occasioni pubbliche come questa preferiscono disertare e non sottoporsi al giudizio dei cittadini, cosa che dovranno fare comunque volenti o nolenti, prima o poi, quando arriveremo alle prossime elezioni amministrative e la gente spero si sia resa conto di chi lo rappresenta in ogni sede, cioè attraverso le sue non dichiarazioni, come questa sera. Poi per quanto riguarda i meccanismi del Consiglio Comunale non voglio entrare nel merito, io sono dell'opinione che bisogna votare e votare il prima possibile per bocciare queste compensazioni, ma non perché, devo dire la verità, io le ho lette sommariamente, mi interessa poco sapere qual è il prezzo che ci danno, cioè quanto ci pagheranno al chilogrammo, cioè la carne umana, quanto costerà la carne del priolese. Mi dice qualcuno che ha fatto qualche calcolo circa 13 euro al chilo. A me quello che interessa è che si faccia valere il fatto che un referendum ha detto no in maniera secca a quell'impianto, se si vogliono riaprire delle discussioni per impianti industriali si facciano confrontandosi col territorio, ma il confronto deve essere non sul prezzo da pagare, ma deve essere sulla sicurezza, sull'occupazione e sulla tutela della salute pubblica. Grazie.